e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti 10.000 like li esigo lasciateli tutti seguite le pagine amiche dodicesimo viola suffering fiorentina space viola seguite tutto guardate i video fatti in particolare voto al calciomercato della fiorentina voto ai calciomercati di tutte le altre squadre e il video un po diciamo nostalgico notturno che vi piacerà che ho fatto alle 5 di stamattina che trovate prima di questo lunedì sera vi aspetto in live con il bruni e il gianna tasio che saluto quindi appuntamenti mancabili ore 21 fiorentina juve ragazzi guardate io ho visto una bellissima fiorentina tratti una bella fiorentina e mi concederete penso dai che se avete se hanno se avete guardato la partita saranno d'accordo anche gli juventini una juve una juve veramente che che non c'è stata in campo cioè la juve oggi non c'era la juve non c'era non ha fatto niente ok io non ho visto i dati sul possesso palla ma boh a me la percezione che ho avuto era 80 20 una cosa del genere una juve che poi anche ho visto nel finale è sembrata ma veramente accontentarsi e cercare il pari anche adesso desciglio che tiene la palla perdite di tempo rinvida il fondo prolungati cioè una juve veramente assente 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 da da zero totale in fase di produzione ed è anche per questo che ho qualche rimpianto perché al di là del rigore sbagliato che pure qualche porco l'ho tirato assolutamente però al di là di quello mi viene da dire con uno stile di juve così non è che c'è tanto da vedere cioè veramente il pari può accompagnare solo è perché meritavamo secondo me di vincerla quest'oggi meritavamo di vincerla avendo un attacco diverso avendo magari qualcuno al centro dell'area capace di buttarla dentro un po di cattiveria in più però devo dire che ripeto c'ho il rimpianto di non averla vinta però i segnali sono positivi perché ho visto una fiorentina veramente stoica una fiorentina che nelle nelle seconde palle ma anche nelle prime arrivava sempre prima recuperava riusciva a pressare altissima la juve ha giocato nella sua area di rigore cioè io ho visto la partita di paredes aveva il baricentro di un difensore centrale ma 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 neanche di squadra normale aveva la juve aveva veramente nei suoi centrocampisti il baricentro spesso di una squadra che difende bassa nei centrocampisti cioè veramente li abbiamo schiacciati il rimpianto è sempre quello cioè che per la mole di gioco che proponi per la produzione che fai per il possesso e anche poi per le giocate che metti in campo oggi abbiamo saltato l'uomo diverse volte siamo stati anche complici anche la juve va detto perché la juve ha veramente una difesa la juve difendeva in curva maratona praticamente il secondo tempo e quindi riduceva anche lo spazio da saltare ma grazie a questo ma non solo abbiamo anche spesso saltato l'uomo oggi sottile ha fatto una partita poi un po stanco nel secondo tempo ma è stata una spina nel fianco ha fatto un assist ha procurato il rigore ha fatto una partita spessissima sottile veramente di grande spessore mi è piaciuta la difesa mi è piaciuto milenkovic ecco sull'azione del gol devo dire che la cosa che più mi ha disturbato anche se poi l'ho ampiamente perdonata per la partita che abbiamo fatto non è tanto il fuorigioco che non è scattato con milenkovic ma è dodo che comunque ha fatto una partita anche lui maiuscola il terzino che mi aspettavo proprio dodo è questo ed è ed è un grande acquisto da quel punto di vista il fatto che kostic se non ero quello che ha tirato e poi mille che ha segnato su deviazione kostic era solo lì doveva andare il terzino in uscita a coprirlo un po però chi se ne frega dai alla fine meritavamo la vittoria ripeto quindi stare qui a recriminare sul gol preso non ha senso il rigore per me non è neanche stato per in bravo per me è stato proprio jovic che non credo andasse in porta il tiro correggetemi se sbaglio se avete visto altro e poi il fatto che purtroppo per quella che è la condizione oggi è di jovic e di cabral se tu avessi anche se cabral è entrato un po tardi io l'avrei fatto entrare anche prima attorno al sessantesimo così anche se non è che si sia districato benissimo ad oggi abbiamo una situazione centro avanti che tra l'attesa di uno i ritardi dell'altro non ti permette di avere un mangiatore capito al centro dell'area però ripeto rispetto a udine per la voglia messa per la grinta per la mole di gioco che hai fatto io oggi sono contento oggi ho visto una fiorentina soprattutto dal punto di vista del pressing dell'atteggiamento che mi è piaciuta la fiorentina capace di ribaltare le azioni di fare delle belle triangolazioni non abbiamo giocato moltissimo per vie centrali ma non ci siamo neanche ridotti a fare quel ferro di cavallo sterile che spesso vedevamo ripeto siamo anche stati agevolati da una juve assente non è neanche brutta la juve oggi non è stata brutta non è stata c'è proprio una squadra la juve che non c'era che non ha fatto assolutamente niente oltretutto di maria ancora fuori bisogna vedere proprio il rimpianto è quello cioè che di fronte una juve conciata così bisognava vincerla sta partita però posso fare pochi rimproveri perché poi rigore troppo noi abbiamo anche la pecca del rigorista ma i rigori si possono sbagliare per l'impegno che ho visto per gli anticipi per la concentrazione per la voglia mi viene da fare pochi rimprovi il resto è rammarico perché era una gara secondo me che si poteva portare a casa avendo un po più di cattiveria sottoporta avendo qualcuno di stabile a livello di centro avanti avendo qualcuno con il piglio con l'esperienza con la capacità di fare il movimento giusto al momento giusto secondo me era una gara che potevi anche portare a casa e forse neanche solo due a uno però siamo questi venivamo da una sconfitta e comunque un pari in casa con la juve ci stava bene e venivamo da una settimana difficile udine era stata una roba veramente brutta da vedere abbiamo pareggiato contro una squadra che sulla carta è più forte di noi penso che il pubblico sia contento ho visto tante belle prestazioni la juve vi ripeto poca 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 cosa poca cosa a partire dai suoi dai suoi attori protagonisti e dei suoi attori protagonisti facciamo un po di pagelle andiamo sul sul contenuto tattico tecnico di ognuno allora terracciano praticamente mai impegnato praticamente mai impegnato il gol ha preso la distanza da avvicinati io darei sei ma sarebbe un senza voto dodò nonostante sul gol ripeto forse non totalmente giusta la sua posizione io un sei e mezzo glielo do voti ovviamente comunità pagellistiche sei e mezzo milenkovic sei più igor mi è piaciuto tanto anche lui sicuro gli anticipi bene non ha sbagliato niente imperioso affidabile sei e mezzo assolutamente uno anche che ti permette di far stare biraghi più alto se vedete biraghi gioca quasi dalla proprio anche perché c'è igor quindi igor oggi applausi per quel che riguarda martinez quarta mi ha presentato benissimo martinez quarta e anche lui sei e mezzo secondo me biraghi 66 più solito solito pendolino solita freccia solita spina nel fianco mi è piaciuto ma lei non mi è dispiaciuto oggi ma lei ha fatto una partita comunque sempre un po spuntata non si capisce cosa punti o debba fare ma io un sei più glielo do amrabata ha fatto un bellissimo tiro però devo dire che non gli ho visto fare una gara come quella contro il napoli ma anche perché la juve ha attaccato molto meno quindi ha avuto molto meno da spezzare però anche lui sei più tranquillamente per il resto barak barak gli do un sei di stima un sei politico però deve ancora prendere secondo me le posizioni deve entrare nel gioco deve essere un po più deve avere tempo per includersi non è ancora il barak che che ci può essere utile devastante mandragora anche lui un sei gli darei mi è piaciuto molto sottile vi ripeto 6 e mezzo ma anche dal 6 al 7 sottile 6 e mezzo dal 6 al 7 jovic 5 e mezzo cabral 6 meno qua me ha fatto il gol mi è mi è piaciuto qua me mi è piaciuto molto per l'impegno mi è piaciuto molto per la foga che ci ha messo proprio lui è stato un po ritratto della mentalità che sta squadra ha avuto oggi specialmente il primo tempo poi nel secondo è un po calato e non ha sempre controllato bene le palle a volte ha dei controlli un po sporchi di palla quello lì va migliorato ecco però sicuramente anche lui sei e mezzo per il gol e tutto e quindi ho visto una fiorentina una fiorentina che ripeto ecco zurkowski è entrato un po un po con uno zaino in spalla un po diciamo da registrare però ripeto facendo una summa buonissima fiorentina ottima fiorentina rimpianto è quello di non averla vinta perché contro una juve così per me meritavi meritavi anche di più ditemi cosa ne pensate iscrivetevi condividete lasciate like guardate i video a dopo ciao ragazzi